La prima volta che l'abbiamo fatto più bene La prima volta che l'abbiamo fatto 37 giorni fa Cosa gli hai detto? Sto tradendo mia moglie e sto mettendo le corna su Averso un'avventura solo ed una storia Sto facendo una relazione Allora, si ricorda quando dicevi che mi stava facendo un'avventura? Ho sbagliato, ho sbagliato, voleva dire relazione Ti sento dottoressa, dimetti di tocarti in quella gravata ogni 2 minuti? Non c'è che fanno che te la riesci ogni 2 a 3 Lei mi sta finendo tutta la carne Dimmi che non ti stancherai mai di me Lei, è lei che sta avendo una storia extra comunicata Cerca di avere un figlio non solo in 2 Si fa così, si fa Lasciare un uomo da solo con la famiglia Sì, 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 sì Ca mi vuole un figlio Ca mi vuole un figlio Ca mi vuole un figlio Mi sono bruciato al fuoco